E allora iniziamo dalle parole del Ministro Salvini che hanno suscitato moltissime reazioni. Il titolare degli interni ha detto di voler procedere a una ricognizione dei Rom nel nostro paese e poi ha aggiunto nessuna schedatura, tuteleremo i bambini. E continuano a far discutere anche le politiche sull'immigrazione, ma ci spiega tutto Valentina Antonello. Mi sto facendo preparare al Ministero degli Interni un dossier sulla situazione Rom in Italia perché dopo l'intervento di Maroni che ormai però risale a 5, 6, 7 anni fa, nessuno ha fatto più nulla. I Rom italiani purtroppo te li devi tenere in Italia. L'intento spiega a Tele Lombardia è solo quello di censire per vedere chi, come e quanti sono i Rom. Una tutela soprattutto per i bimbi educati al furto e all'illegalità insiste replicando ai tanti che parlano di proposta shock. Salvini ci riprova, 10 anni dopo, la raccolta delle impronte lanciata da Maroni ma stoppata da Bruxelles. Immediate, ieri come oggi, le proteste di Rom e Sinti. In Italia il censimento su base etnico è vietato dalla legge, replicano dall'Associazione 21 Luglio, ricordando che molti sono cittadini italiani, altri apolidi, dunque impossibili da espellere. Arriva anche il monito di Angela Casamonica, italiana di origine Rom. Non siamo criminali, Salvini non ci può cacciare, con noi deve rigar dritto. Dopo la sortita controversa del ministro dell'Interno, le parole di Fedriga via la protezione umanitaria che introdotta dal governo Prodi nel 2006 per il governatore del Friuli Venezia Giulia esisterebbe solo in Italia. Il carroccio stringe sulla difesa dei confini, navi sotto costa, in ossequio alla linea non tocca solo a noi e sul piano Africa con hotspot nel Bagreb. Entro giugno il bilaterale con il libico Sarraj. In settimana poi l'incontro probabile col Papa. Grazie. 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 Grazie.